La vittoria del Governo sulla Lei Bases al Senato è ovviamente molto importante per una serie di questioni di politica interna, non solamente perché si tratta della prima legge che il Governo riesce effettivamente a far approvare in Parlamento dall'inizio del suo mandato a dicembre scorso, ma anche perché il Governo sembra aver imparato quali siano le regole del gioco all'interno del Congresso. Questa stessa Lei Bases era stata presentata a febbraio scorso. Nel corso del trattamento a febbraio il Governo aveva dimostrato una certa prepotenza, come se il fatto di aver ottenuto un risultato molto importante alle elezioni del 2023, specialmente al ballottaggio del novembre del 2023, desse effettivamente la possibilità al Presidente e alla libertà d'avanza al suo partito di poter fare assolutamente quello che voleva nel Governo e gli fosse dovuto effettivamente da parte del Congresso il fatto di dovergli garantire gli strumenti necessari per poter governare. Milei si è trovato di fronte a un vero e proprio muro alla Camera dove è stato bocciato il progetto originale della Lei Bases e ha reagito in un modo realmente molto violento, pubblicando addirittura una lista di tutti i deputati che avevano votato contro il proprio progetto di legge, praticamente preparando una gogna pubblica contro i traditori della patria che impedivano al Presidente Milei di governare. Nel trattamento della legge invece a maggio-giugno le cose sono andate molto diversamente. I legislatori della libertà d'avanza hanno imparato che bisogna negoziare e che per negoziare bisogna mettere sul tavolo anche una serie di offerte e rinunciare anche a determinate parti della legge se si vuole effettivamente ottenere una maggioranza. La cosa effettivamente è andata in porto anche perché la libertà d'avanza ha incominciato ad utilizzare gli stessi metodi della famosa casta che tanto rifiutano per poter ottenere un'approvazione sia alla Camera sia al Senato. È famosa addirittura la situazione di una senatrice che diventerà ambasciatrice argentina presso l'UNESCO, un posto veramente molto molto ambito perché permette di vivere durante quattro anni a Parigi senza troppe responsabilità politiche e con ovviamente un salario altissimo, a cambio del suo voto giustamente a favore della Ley Basses. Una Ley Basses che tra l'altro prende il nome da un testo scritto nel XIX secolo dal fondatore praticamente del pensiero liberale argentina, Alberti, che un anno prima della proclamazione della Costituzione nel 1853 scrisse giustamente la Basses para l'organizzazione dell'Argentina, un testo che è passato agli annali della storia politica argentina come giustamente la base della Costituzione del 1853 e che in qualche modo simbolicamente Millet vuole emulare pensando di porre le basi per la liberazione degli argentini da la situazione diciamo di sottomissione a cui siamo stati secondo lui sottomessi dallo Stato e dalla politica. Privatizzazione a Mansalva, dunque una serie di libertà eccezionali che il Congresso dà al Presidente per poter per esempio chiudere una serie di istituti nazionali, circa un centinaio di istituti nazionali dedicati alla cultura, alla scienza, a diversi ambiti della società giudicati assolutamente inutili, una sorta di cassa a partire dalla quale politici e rivisti di ogni tipo secondo la visione della libertà d'Avanza si sono arricchiti durante moltissimi anni, ma c'è anche un cambiamento nella visione rispetto a questioni fondamentali per il futuro dell'Argentina come può essere la questione degli idrocarburi. A partire dalla Lei Basses il sistema energetico argentino non ha più come obiettivo principale il rifornimento nazionale, ma l'obiettivo, lo dice la stessa legge, è garantire la maggior quantità di profitto alle aziende che si occupano dell'estrazione ad esempio di petrolio nella Patagonia. Un cambiamento della visione drastico, un giro copernicano realmente nella politica energetica argentina, vedremo quali effetti avrà sull'approvvigionamento soprattutto a livello nazionale, ma Milley può essere contento perché ha dimostrato sia a livello nazionale sia a livello internazionale di poter far passare una legge, si aspettava un gesto di governabilità da parte del governo che è arrivato anche se in extremis, anche se grazie a un voto da parte della vicepresidente che è allo stesso tempo anche la presidente del Senato e nient'altro, ma evidentemente Milley per ora ha superato la prova. Vediamo e vedremo nei prossimi mesi se effettivamente gli altri aspetti su cui vuole costruire in qualche modo un consenso con altri membri dell'opposizione, altre forze dell'opposizione e gli permetteranno di portare avanti, di portare in porto anche altri progetti.